...lo scavatore! Un coniglio che salta! Ottima scelta! D'accordo, amici miei! Per saltare sopra i bauli di costumi che sfrecciano veloci dobbiamo saltare, saltare, saltare come un coniglio! Guardate me! Daisy è un perfetto coniglio che salta! Diventiamo tutti conigli che saltano! Siete nella vostra bozzona? Bene! Ora conto fino a tre! Poi saltate con me! Uno, due, tre... Saltate! Per saltare come un coniglio dovete portare le ginocchia al petto! Poi iniziate a saltare più in alto che potete! Saltate, conigli! Daisy, fa attenzione! Davvero un bellissimo ballo, amici miei! La seconda porta! Guarda! Una cicogna! Con una buffa uniforme! Sì, è vero! Sembra un uniforme da marinaio! I marinai navigano sempre sulle navi! Vediamo se c'è qualche cicogna marinaio che naviga dietro questa porta, amici! È chiusa! Ci occorre un'altra chiave volante! Volete aiutarmi ancora? Super, super fantastico! Allora allunghiamoci! È troppo tardi! Ed infine arriveremo al capannone di Benny! Così potremo aiutare il nostro amico Benny che starnutisce! Grazie per il tuo aiuto! Quindi, come prima cosa, dobbiamo attraversare la giungla! Tu vedi una giungla? Grazie per la visione!